È un momento importantissimo nel senso che poi è il coronamento, non ultimo perché la vita poi riserverà altre soddisfazioni. Questa è grande perché si raggiunge un risultato assolutamente importante. Credo ci manca qualcosa perché però Giuseppe ci guarderà e credo che ci aiuterà anche da lassù. I ragazzi stanno facendo una stagione bellissima, noi siamo soddisfatti. Oltretutto si sta allargando anche la platea degli sponsor e se fosse poi un risultato come ci auguriamo positivo credo che creerà ancora più entusiasmo di più di quel che c'è già in maniera massiccia. Poi pensiamo anche a tutti i ragazzi, le scuole. Per Brescia è sicuramente un'occasione, perciò io faccio in bocca al lupo e li ringrazio perché aver raggiunto un risultato così credo che sia una cosa molto bella.